Benvenuta a questa nuova puntata di Impact Girl. Oggi voglio condividere con te qualcosa su cui ho rimuginato e riflettuto parecchio negli ultimi giorni del 2020, mentre riflettevo su quello che di buono ho combinato nel corso dell'anno. Prima di procedere però ti invito ad iscriverti al canale YouTube se stai guardando questa puntata dal mio canale YouTube, attivando la campanella per ricevere la notifica quando esce una nuova puntata. Se invece stai ascoltando questa puntata dalla tua piattaforma di podcast preferita, ricorda di lasciarmi una recensione se alla fine di questa puntata l'avrai trovata d'ispirazione. Solo 5 stelle sono ammesse. Torniamo a noi. Dicevamo, una delle cose su cui ho riflettuto molto nel corso dei primissimi anni di quest'anno e degli ultimi dell'anno scorso è stato il fatto che più esitiamo, più aspettiamo, più ci viene voglia di esitare e di aspettare e ci viene voglia proprio di rimandare qualunque piccola azione verso un progetto che abbiamo in mente, verso la realizzazione di qualunque cosa vogliamo creare. E più aspettiamo, più ristagniamo e diventa difficile iniziare. Tra l'altro il gap tra dove siamo e dove vorremmo essere diventa quasi incolmabile perché ci cominciamo a costruire un sacco di film mentali su quanto insormontabile sarà questa montagna e il fatto di aspettare non aiuta, anzi aumenta l'inerzia e diventa sempre più difficile riuscire a smuoverci anche solo di un passo. E intanto il dubbio diventa sin sinua in maniera sempre più insistente, sarò brava abbastanza e se poi è troppo difficile e se poi non riesco a finire il progetto e se poi fallisce e se poi mi dicono te l'avevo detto e io non so che cosa rispondere. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro progetto, la nostra idea e la infiliamo in un cassetto e ci autoconvinciamo che in fin dei conti non la volevamo nemmeno realizzare in primis, non era neanche qualcosa di cui eravamo troppo convinte, non fa per noi, siamo felici anche senza. La cosa però incredibilmente affascinante è che è vero anche l'opposto e cioè che ogni volta che intraprendiamo un'azione anche piccola tutto quello che abbiamo in mente di fare diventa un pochino più facile anche se facciamo errori che sono assolutamente inevitabili e necessari, anche se l'azione che intraprendiamo è goffa, è caotica, è incompleta, anche se stiamo salendo questa scala di cui vediamo soltanto il gradino in cui siamo, ecco che però nel momento in cui continuiamo a salire ogni gradino che calpestiamo ci illumina il gradino successivo e anche se non vediamo la fine della scala siamo cariche di una nuova energia, di una nuova ispirazione, di una nuova motivazione. Mentre intervistavo per una puntata del nostro progetto digitale La Svolta School, uno dei miei autori preferiti contemporanei, Steve Chandler, lui mi diceva che spesso pensiamo che l'ispirazione arrivi così, di punto in bianco e così aspettiamo, aspettiamo che arrivi immobili. In realtà l'ispirazione inizia ad arrivare proprio nel momento in cui cominciamo a muoverci, anche se con un'azione minuscola, piccolissima ed ecco che la cima della scala piano piano si fa più vicina e la montagna sembra molto molto meno difficile da scalare e quando questo succede, cioè quando cominciamo ad intraprendere una piccola azione costante verso il progetto che abbiamo in mente, diventiamo anche più sicure e più sicure ci sentiamo, più continueremo ad intraprendere la nostra azione. Quindi si innesca sia in un caso come nell'altro un meccanismo potentissimo. Nel primo caso mi convinco che continuo a procrastinare, mi convinco che non ce la posso fare, che sarà sicuramente troppo difficile e più procrastiniamo, più aspettiamo, più la nostra inazione deve essere giustificata e quindi più ci convinciamo e cerchiamo delle prove del fatto che è proprio vero, non era il caso nemmeno che ci provassimo perché avremmo sicuramente fallito ed è vero anche l'opposto e quindi che più ci muoviamo più invece ci sentiamo sicuri, più abbiamo quasi la prova, più diventiamo noi stesse la prova vivente del fatto che possiamo farcela, possiamo per lo meno, per lo meno possiamo provarci e in questo secondo meccanismo ogni passo che intraprendiamo illumina quello successivo e noi ci sentiamo sempre più forti e sempre più ispirate. E proprio qualche tempo fa, anzi inizio dell'anno scorso, ho iniziato un percorso di grande trasformazione per la mia attività, un percorso a cui pensavo, una trasformazione a cui pensavo già da un paio d'anni e che però non avevo mai avuto il coraggio di iniziare e il bello è che davvero più ho aspettato, più questa migrazione, questa trasformazione è diventata un qualcosa di insormontabile. Davvero mi ero addirittura convinta che avrei dovuto cambiare lavoro, che avrei dovuto, che sarei sparita dalle scene, avrei dovuto fare una scelta drastic, radicale perché nulla avrebbe funzionato. Ma nel momento in cui abbiamo intrapreso una piccola azione alla volta, la cima della scala era impossibile da vedere, era lontanissima, questa trasformazione è durata un anno e sta ancora avendo luogo. Ma affidandomi a questo approccio della piccola azione quotidiana, quello che sono riuscita piano piano a fare è trovare la motivazione e l'ispirazione per continuare, anche se non vedevo la fine, proprio perché mi sono sentita più sicura, più forte e più ispirata. Quindi qualunque sia il progetto che vuoi costruire quest'anno fatti questa domanda, non solo oggi, ma ogni giorno, ogni momento in cui ti senti un po' scoraggiata e hai voglia di gettare la spugna. Qual è la prossima piccola azione, qual è il prossimo piccolo step che posso fare per procedere? Magari a creare un contenuto editoriale per i miei social, oppure a cominciare a scrivere quella newsletter settimanale per restare in contatto con la mia audience, oppure a cominciare a buttare giù la prima bozza del mio corso digitale. Qual è? Qual è quest'azione? Qual è questo piccolo traguardo verso il quale puoi già lavorare per innescare quel meccanismo di ispirazione, motivazione e forza. Ogni volta che ho raggiunto dei risultati eccellenti nella mia attività, tutto quello che ho fatto davvero, la semplice e così efficace e magica formula che ho utilizzato è stato quello di una piccola azione costante e ogni volta che invece mi sono bloccata era proprio perché aspettavo di sentirmi pronta, aspettavo che fosse tutto perfetto, che ci fosse la congiuntura perfetta e non facevo altro che esitare di scendere in campo e dunque non facevo altro che sentirmi ancora e sempre più inadeguata. Quindi basta aspettare, qualunque cosa tu abbia in mente il momento di cominciarla è adesso. Se questa puntata di Impact Girl ti è stata utile e la stai guardando dal sito biz-academy.it slash podcast oppure da YouTube lasciami un commento qui sotto e raccontami quale progetto vuoi far decollare quest'anno. Se invece la stai ascoltando da iTunes, Spotify o qualunque sia la tua piattaforma podcast preferita lasciami una recensione a 5 stelle se ti è stata utile. Questo aiuterà il podcast ad ispirare il maggior numero di imprenditrici possibile e il mondo ne ha davvero bisogno, ora più che mai. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.